Prima trasferta in Superlega, tutto bene all'esordio, ora la Sticella si alza un po' a Milano. Secondo me si alzerà di partita in partita, Milano è una squadra che è cresciuta molto rispetto allo scorso campionato, a quello che ho potuto vedere dello scorso campionato, sta giocando una buona pallavolo, giocaremo in un palazzetto, secondo me è quasi pieno, se non pieno è desaurito, ma perché l'Azimut Modena porta pubblico e di conseguenza sarà una bella partita e mi auguro che sia un bello spot per la pallavolo. Vincere aiuta a crescere, vincere a Molfetta per Milano è stato sicuramente un inizio positivo. Diciamo che è stata una partita intensa, vissuta ai vantaggi per 3-7 su 4, giocata a viso aperto da due formazioni, non si sono nascosti mica tanto, è stata una bella partita, sicuramente più interessante di quella che abbiamo fatto vedere noi contro Soro domenica scorsa. Il vostro processo di crescita invece come procede? E diciamo a piccoli passi, a piccoli step, questa è la prossima, saranno due settimane di grande carico, anche perché poi dopo cominceranno gli impegni infrasettimanali nel campionato, per cui o si caricava adesso o non si caricava più e dopo torneremo a fare ancora un po' di carico alla fine di novembre, però insomma intanto piccoli passi sempre avanti. Come sempre si guarda da questa parte della rete, ma bisogna guardare anche gli avversari, cosa c'è di più da temere nella squadra di Monti? Insomma la squadra di Monti è una squadra che è ordinata, che ha una buona fase break sicuramente, dove stanno spingendo con alcuni battitori. Il palleggiatore è un palleggiatore molto interessante, farà vedere delle ottime cose anche in futuro, insomma è come lo stesso Luca Monti ha detto, anche per la nazionale italiana possiamo stare abbastanza tranquilli nei prossimi anni a palleggiatori. L'opposto, Sasha Starovic, non è che lo devo presentare io, i due martelli, Og e Skrimov, hanno messo l'esperienza di Og che l'anno scorso non c'era e Skrimov è un giocatore che l'anno scorso ha giocato e ha fatto molto bene con loro, nonostante non abbiano fatto un campionato straordinario. Ho visto molto bene Dettoni nella prima partita di campionato contro Molfetta, il centrale, insomma è una formazione, ripeto, che nella fase break si fa rispettare, dobbiamo essere bravi noi a imporre il nostro gioco.